La mia proposta di legge prevede dei requisiti stringenti per la nomina dei commissari che debbono scegliere la rosa dei candidati alla carica di direttore generale da sottoporre al Presidente di Regione. Secondo la nostra proposta di legge i commissari non devono aver riportato condanne anche non in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, non devono aver svolto percepire fondi dall'ASL o svolto attività professionale per le ASL, non devono aver fatto politica negli ultimi dieci anni, non devono aver svolto lo stesso incarico per più di due mandati e soprattutto non devono aver svolto svolgere attività professionali in contrasto con i principi del Servizio Sanitario Nazionale. Ebbene, ora noi sfidiamo il Centrodestra e il Governo regionale di Centrodestra ad approvare questa norma. Se approvano questa norma vuol dire che vogliono il cambiamento e vogliono porre fuori i partiti dalla sanità, altrimenti rimane tutto come prima. Noi abbiamo anche individuato una sorta di anomalia nella scelta degli ultimi commissari, perché qualche giorno fa il Presidente di Regione ha scelto i commissari che dovrebbero valutare le nomine per il Direttore Generale dell'ASL di L'Aquila e di Chieti. Ebbene, hanno designato anche un componente di Regione Abruzzo, non ricordandoci che c'era una precedente delibera della Giunta di Chiodi che prevedeva che i membri devono essere designati dalle università e dall'Agenzia Sanitaria Nazionale. Quindi noi abbiamo fatto notare anche questa cosa e chiediamo di revocare gli incarichi che ci sono stati e di rivedere anche la nomina della Commissione.